questo ragazzo non guarda i pulsanti dell'ascensore ma avrebbe dovuto non premere il pulsante 6 per tre volte o finirai a un piano molto malvagio cosa chi sei tommy no è troppo presto per te va via ciao ciao ci vediamo tra 50 anni andiamo al sesto piano tesoro oh no l'ascensore si è bloccato siamo troppo pesanti lo shawarma o mia figlia o lo shawarma o lo shawarma non ha le gambe tu puoi fare le scale tesoro ti voglio bene ci vediamo su settimo piano per favore chi c'è qualcuno mi sta guardando un giocattolo aiuto salvami oh cielo chiuditi più velocemente buon pomeriggio signore benvenuto nel nostro ascensore quale piano desidera quinto giù le mani voglio premere il pulsante da solo no questo è il mio lavoro via lasciamelo fare benvenuta nel nostro ascensore penso che prenderò le scale questi sono i miei pulsanti sta indietro questa ragazza non esce mai di casa senza disinfettante gli ascensori sono dei pozzineri di malattie ma io sono protetta stop non muoverti ci siamo avvio dell'operazione di sanificazione non rimarrà nessun virus quando avrò finito adesso una dose di vitamina attenzione signorina sta bene questo è il suo piano scende sì scusate che strana non ho piano per favore tom lo odio devo aggiungere qualcosa perdente ops salve miss radius allora sei tu quello che continua a scrivere cose cattive in ascensore fuori di qui vandalo che stupido ha fatto anche un errore lo correggerò adesso è corretto anche gli angeli prendono l'ascensore ci siamo ops mi sono confusa sto andando su non giù così va meglio alleluia dov'è la mia ragazza è di nuovo in ritardo tesoro dove sei? certo tesoro sarò lì tra cinque secondi come ho fatto a dimenticarmi trucco veloce capelli perfetti meno male che il mio grattacielo ha un ascensore velocissimo scenderò dal centesimo piano in pochi secondi andiamo troppo veloce i miei capelli le mie gambe tesoro sono qui scusa il ritardo oh cos'è successo? oddio ciao ciao cosa? una doccia? tesoro non guardare entrate mi strofini la schiena prendo le scale vabbè aspettate scusate sesto piano grazie oh no siamo di nuovo bloccati niente panico ci penso io entrerò nell'ascensore ehi cosa sta succedendo? ops un attimo aspettate ecco posso aprire le porte chiudile prossima fermata che freddo è il polo nord ho commesso un errore ecco il nostro piano ehi guardate ehi siamo noi andiamo aspetta ti farò fare un giro dei piani ti ho fatto uno scherzo amico batterò l'ascensore e riderò di quel perdente ad ogni piano ancora una fermata questo è il sesto piano salire le scale è difficile ma per lo scherzo ne vale la pena ultimo piano ehi amico ti piace il mio scherzo? cosa? quale scherzo? mi sono divertita moltissimo andiamo a casa ops cosa? oh no l'ascensore si è rotto mi sa che siamo bloccati che noia e ci vorrà molto tempo capitolo 25 c'erano una volta due persone che non sapevano cosa fare uno ho vinto guarda ho già superato dieci livelli ho fame resisti pronto? vorrei ordinare una pizza sì grande grazie consegna pizza è vostra sì grazie buon appetito che buona ciao entra sali anch'io se sei un ladro dovresti pensarci due volte prima di rubare la borsa di qualcuno in un ascensore perché non potresti scappare? dovresti almeno aspettare l'apertura delle porte bene riprenditi la borsa consegna la genio tesoro come sta il nostro bambino? oh l'ascensore si è rotto moriremo tutti tesoro non aver paura fai dei respiri profondi la mia unghia si è rotta tesoro calmati chiedo aiuto pronto? operatore? sì capito sarò lì fra 5 minuti visto saremo salvati in 5 minuti continuo a respirare oh che libro interessante cosa mi metto? no l'ho messo ieri è un'ottima scelta mi piace le 5 è ora del tè ah scotta arrenditi dai sono più veloce forse devo radermi non posso andare a lavorare con la barba tesoro mi sa che sto entrando in travaglio spingi tesoro respira ok è ora di mettersi al lavoro ecco l'ascensore ehi ragazzi siete ancora qui? vi faccio uscire fatto grazie mille che velocità ma dobbiamo andare a scuola ti sono piaciute le nostre situazioni imbarazzanti in ascensore allora commenta qui sotto e dici se ti è mai successo qualcosa di divertente in ascensore e voi ragazzi iscrivetevi al nostro canale mettete like a questo video e fate click sulla campanella non perdetevi nessun nuovo esilarante video di woohoo no perdetevi nessun nuovo no perdetevi nessun nuovo no perdetevi nessun nuovo no perdetevi nessun nuovo no perdetevi nessun nuovo